La Fiera Antiquaria di Arezzo festeggia i suoi 55 anni con un'edizione straordinaria, una a tre giorni che inizia oggi e terminerà domenica 4 giugno. C'è anche il record di espositori. Come si festeggiano questi 55 anni? Si festeggiano bene con 229 banchi, che penso che sia un record degli ultimi anni, con un percorso fiera assolutamente pieno, senza nessun problema stamattina alle fasi di spunta, pur essendo un giorno un po' strano, con tutte le iniziative che se il tempo non ci farà dispetti alleteranno questa edizione. Siamo molto contenti, abbiamo fatto una bella operazione, abbiamo chiuso il bando in tempi record, abbiamo sistemato il percorso veramente bene. Secondo lei questo mercato che momento sta vivendo? Penso che sia un buon periodo per l'antiquariato. Dobbiamo fare complimenti a chi l'ha organizzata, perché negli ultimi anni è veramente migliorata. Nell'organizzazione, grazie che ci hanno dato per più di un anno il contributo per dormire negli alberghi, poi tutti questi eventi che fanno collaterali, come la mostra di Afro, che attira molto a livello internazionale, gli stranieri vengono da tutte le parti del mondo, si può dire. Dalle voci degli espositori emerge che il settore sta bene, vive un momento buono e che la fiera è cambiata, è migliorata. Obiettivamente negli ultimi anni e mezzo, due, è andata sempre in crescendo, ma veramente siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto sia come amministrazione che come fondazione per quello che riguarda la promozione.